adesso che il ventesimo con il punteggio sempre fermo sul 2 a 0 avevamo terminato linea Palermo a Palermo siamo quasi al diciassettesimo Palermo a 0, Napoli 1 Pazzate! 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 Puto parparlo, puto parparlo A lui deve o... Massaggi e più GOOOOOO EGGOOOOOOOOOO Pazzate! GOOOOOO Dai e Roma! Dai e! Dai e Roma! Dai e Roma! Noves! 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 Grazie 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 Grazie